Parola alle difese e alla vela della tribunale di Arezzo per il processo Coingas che ruota attorno a consulenze da mezzo milione di euro, inutili secondo la procura. Il procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi aveva chiesto la condanna a sei anni complessivi per Francesco Macri, ex presidente di Estra, due anni e due mesi per il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli che deve rispondere di abuso d'ufficio e favoreggiamento, un anno e mezzo per l'assessore Alberto Merelli, proposte pene pesanti anche per l'avvocato fiorentino Pierettore Olivetti Razon, quattro anni e mezzo per peculato, per l'ex presidente della partecipata comunale multiservizi Luca Mendola, due anni e mezzo per corruzione e per il consigliere comunale Roberto Bardelli. Ancora due anni e mezzo per istigazione alla corruzione, cinque poi le richieste d'assoluzione. Tema centrale è la natura giuridica di Coingas e Estra, il procuratore Rossi ha chiesto di considerarle di diritto pubblico, diametralmente opposta alla ricostruzione della difesa di Macri, accusato di peculato e avuto d'ufficio che ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Non vediamo dove sia il dolo, al di là della potenziale illegittimità amministrativa rispetto alla Severino che è molto discutibile, interpretabile, è evidente a tutti che non c'è il dolo e soprattutto il tema è quanti soggetti si sono messi d'accordo per compiere questo delitto. Anche i legali del commercialista retino Marco Cocci, imputato per le consulenze d'oro circa 100.000 euro ritenute peculato, hanno chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Secondo noi quanto riportato in questo processo è frutto di suggestioni perché sono state affermazioni che a nostro giudizio non hanno retto al vaglio di battimenta. Stesso principio sarà seguito anche dai legali di Rason, al suo studio Coingas aveva affidato consulenze per 300.000 euro. Siamo qui in mezzo ai nostri gattini e cagnolini perché volevamo invitare tutti domenica prossima il 22 di gennaio alle 5 di pomeriggio a Spazio Seme che è un centro culturale e artistico ad Arezzo perché ci sarà una conferenza molto bella, molto interessante della nostra volontaria e giornalista Sara Lucaroni. Vittorie di coraggio e speranza sviluppata nei territori di guerra. Però non vi aspettate né immagini violenti o cruenti, anzi tutt'altro. Una conferenza molto bella che ci dà voglia di fare ancora di più. L'ingresso è a donazione perché il nostro progetto è quello di riuscire ad avere tanti soldini per aiutare il nostro rifuso e possibilmente inviare una bella cifra anche a qualche rifuso in queste zone di guerra con i quali abbiamo contatti. Quindi partecipate numerosi e dateci una mano ad aiutare. Grazie. Prima i gioielli, poi le banconote scomparse misteriosamente di settimana in settimana in casa a derubare un'anziana coppia vittima dei furti, la collaboratrice domestica da tempo in servizio nella loro abitazione di Montevarchi. La donna è stata scoperta da un'indagine lampo dei carabinieri di Cavriglia scattata dopo la denuncia degli anziani coniugi. All'ennesimo episodio, infatti, la coppia di ultranovantenni ha deciso di rivolgersi ai militari raccontando la vicenda e fornando dettagli demonili trafugati per un valore complessivo di oltre 10.000 euro. Ben presto il cerchio si è stretto attorno alla colfa. Ulteriori approfondimenti svolti anche con la visione dei filmati di videosorveglianza hanno poi aggravato la sua posizione. Messa alle strette, ha ammesso le sue responsabilità. Inmediata la perquisizione è eseguita in flagranza di reato dai carabinieri che hanno rinvenuto nella sua abitazione la maggior parte dei demonili d'oro scomparsi negli anni dalla casa, recuperati e restituiti ai coniugi. La donna è stata denunciata per furto in abitazione, aggravato e continuato, mentre proseguono gli accertamenti per tentare il recupero della refurtiva mancante. Presidente, a che cosa servirà questo mezzo che vediamo alle sue spalle? Questo mezzo servirà a servire meglio, diciamo così, perché lo utilizzeremo per la mobilità di quelle persone che hanno dei disagi a muoversi da soli, quindi usufruiranno del nostro apporto e noi utilizzeremo questo mezzo per poterli portare a secondo dove hanno le loro necessità. I cittadini come potranno chiedere questo SOS, questo aiuto? I cittadini dovranno chiamare l'Auser, rivolgersi all'Auser. Molti hanno i nostri telefoni, certamente. E comunque noi siamo qui in Piazza Andromeda al numero 30, possono venire e programmare una loro urgenza, una loro necessità. Per ora non abbiamo mai lasciato indietro nessuno, lo possiamo dire con orgoglio. Con questo mezzo sicuramente potremo fare meglio, perché qui c'è il cuore degli sponsor, ma c'è il cuore anche nostro. E insieme vedrete che faremo delle buone cose. Presidente, questa mancanza di volontari che le pubbliche assistenze stanno lamentando, ma anche le associazioni di volontariato, voi la sentite? Purtroppo la sentiamo tutti, questa è una cosa, perché manca un pochino, non la voglia, ma manca un po' la cultura. Sembra che si viva più tranquillamente se non c'è nulla. Invece no, se c'è una società organizzata che aiuta le persone, che aiuta i soggetti più fragili, l'ho detto prima e lo ripeto, là dove i soggetti fragili sono aiutati e rispettati e stanno bene, gli altri poi stanno ancora meglio. Insomma, è stato detto in conferenza stampa che invecchiare deve essere un piacere, non un problema. Forse questo mezzo va proprio in questa direzione e poi c'è stato anche un altro termine. Sì, anche perché non ci sono tante scelte, quindi è bene pegliarsela con comodo e quindi pensare che invecchiare fa bene, perché chi non invecchia vuol dire che è partito prima. Ho ricordato l'importanza di fare una donazione in un momento storico, economico come questo, non c'è nulla di scontato, mi verrebbe da dire. Sì, dunque il cuore ci deve essere sempre, perché chiaramente quando il cuore c'è e sei portato a fare qualcosa di bene, è chiaro che non devi guardare al momento, fai per quello che vuoi, però chiaramente ci deve essere sempre un po' di aiuto, perché la società, parecchi nella società ne hanno bisogno. La castagna, alimento che a lungo ha sfamato le popolazioni, soprattutto nel dopoguerra e nei mesi più freddi, oggi diventa una prelibatezza. Il 2022 è stato un anno importante per la castanicoltura della provincia di Arezzo, che dopo periodi altalenanti ha potuto contare sul raccolto buono e sano e, perché no, anche redditizio. Marco Albertoni, proprietario di un agriturismo a Castelfranco di sopra, nel Valdarno Aretino, dopo una vita di lavoro a Firenze, è tornato alle sue origini. Ha dotato la sua azienda di un essiccatore all'avanguardia di un mulino utilizzato esclusivamente per la produzione della farina dolce, capace di garantire un alimento gluten free, che unito alla ricetta dei nonni diventa una forte attrattiva per i turisti. E mi è venuta anche la voglia di ritrovare questa cosa che facevo da bambino, un pochino più, più sostenibile anche per me, per guadagnare qualcosa. E si è fatta una procedura, abbiamo comprato il mulino, abbiamo preso le astagne, ho comprato un castagneto e facciamo e qualcosina si guadagna. E mi sembra anche che venga un bel lavoro. Ho l'agriturismo e penso anche in futuro che sia anche una cosa di ricavo nell'agriturismo, per vedere, per arrivare, perché siamo in zona montana, abbiamo l'iris, abbiamo il giaggiolo, chiamato, e insomma è lì qualcosa si riesce a ricavare. L'Appennino Tosco Romagnolo è finalmente imbiancato per la gioia di sciatori e proprietari degli impianti e uno su tutti il comprensorio della betone, che in questo fine settimana, è facile pensare, sarà preso d'assalto. I 50 centimetri di neve caduti a quota 1450 metri hanno permesso agli operatori turistici di aprire la stagione invernale di Fangacci-Montefalco, la più importante stazione della Romagna del Casentino, e di rendere dunque fruibile la pista e dare il via libera anche allo sci di discesa. Non solo sci, ma anche ciaspo, le sci da alpinismo fondo escursionistico e le fatbike, quelle a ruota larga. Per chi rimane in città e deve muoversi con l'auto, la neve è indubbiamente un disagio, che secondo le previsioni meteo durerà ancora poche ore. Quello che è certo, dicono gli esperti, che il freddo arrivato in questi ultimi giorni non ci abbandonerà tanto presto. Il rischio maggiore dunque per le prossime settimane sarà il fondo stradale ghiacciato. Noi con gli anni abbiamo imparato benissimo l'importanza di certe cose e ci siamo allenati moltissimo nel nascondere ogni nostro sentimento o pensiero negativo. Il negativo è negativo. Noi ci siamo allenati per non turbare gli altri. E insomma, soprattutto quelli dello scalino sul radio. Un trio di fuoriclasse del teatro italiano assieme per la prima volta nello spettacolo danzando con il mostro. Serena Ballivo, Mariano D'Amaco e Roberto Latini, tre vincitori del premio UBUL, più prestigioso riconoscimento del teatro italiano, sono saliti sul palco del teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino per il secondo appuntamento del 2023. Lo spettacolo porta in scena un viaggio nella mente di un individuo, nel suo tormento, nella sua sfida, con se stesso. Ah, allora, in Danzando con il mostro, che è uno spettacolo dove ho avuto l'onore di poter comporre e firmare l'opera insieme a Serena Ballivo, mia compagna abituale, ma un artista anche come Roberto Latini, in realtà in Danzando con il mostro in effetti c'è un elemento scenografico a cui fanno riferimento i materiali dello spettacolo, che può essere letto come una torre, forse una torre dell'orologio, forse una torre dove c'è una finestra. È un luogo, in questo Danzando con il mostro, che è una specie di allucinazione, dove noi chiediamo allo spettatore di abbandonarsi e di sognare insieme alle visioni che si succedono. In qualche modo, diciamo che anche questo luogo può assumere vari modi di essere letto dallo spettatore. Forse è semplicemente la finestra di casa di qualcuno, forse è una torre dove vive qualcuno, chissà chi, forse è una torre con un orologio. Il ruggito è un grande atleta che non molla mai. Io vorrei vedere quale pilota, dopo una caduta a 120 orari e uno svenimento, non sai manco se ti sei rotto qualcosa, rimontare, tagliare la strumentazione nel deserto da solo e andare all'inseguimento di quell'altro e arrivare a sesto nonostante tutto. Ecco, questo lo dice tutta sulla caparbietà, la cocciutaggine di uno sportivo che veramente si allena tantissimo tutto l'anno. L'ho seguito io personalmente i suoi allenamenti, per farvi capire nel deserto si alza alle 4, fino alle 6 corre, dalle 6 monta a moto fino al tramonto alle 5 del pomeriggio. Ecco, questo io personalmente sono andato io con lui in Tunisia e era la sua tabella di allenamento. Ecco, per farvi capire quanto questo ragazzo, da 29 anni, si dedica a questo sport, anche con tutti i sacrifici che ne concernono. Cioè, tipo, non va in discoteca, non beve, mangia poco, c'è stato attento a tutto, ecco, come veramente un atleta che va all'Olimpiadi e questo ne fa un grande onore per lui. Sono contento, sono contento perché è la prima Dakar che riesco a finire. L'anno scorso era stata la mia prima Dakar, ma per un problema alla moto non l'ho finita e quest'anno l'abbiamo finita e l'abbiamo finita con un buon risultato. Poi, sì, ci sono diverse cose da migliorare per il futuro, però credo che esserne consapevoli è già un passo avanti per il prossimo anno. Cosa significa per un pilota partecipare alla Dakar? Cosa c'è dietro? Dietro ci sono tante cose. È un anno di preparazione tutti i giorni, sotto tanti punti di vista. da recuperare il budget all'allenamento fisico e mentale. Quindi, questo per me è il mio lavoro e sono impegnato 365 giorni all'anno per preparare una Dakar. Stando così, specie a Rezzolo, tutte le volte non c'è una partita che ci ballisce. Credo che si giochino in Filosofrano Medio al minimo la terza volta qui a Rezzolo. Incredibile. Se fa una roba di genere di ventesimo, è un po' di cinque mesi. Incredibile. Tra l'altro, Pattarello, in esce di iniziali, è stato scelto al posto di convitto, che poi è entrato nella ripresa. Un Arezzo che era partita anche molto bene, schiacciando poi gli avversari, e dopo in dieci ha faticato tanto a riuscire a costruire l'occasione di Dancolla. Giovanni in Filosofrano Medio per un tempo e mezzo non è facile per nessuno, ma non ce l'abbiamo fatta a tenere là. Quando fai questi errori così, devi pagare e li paghi, come è successo. Domani a Pinesi non giocherà, a partita sarà inviata a mercoledì, quindi Arezzo al momento comunque in testa alla classifica, e adesso c'è la volante per la gara di settimana prossima, una trasferta in Val d'Arno contro il Ternavo Traiano. C'è il tempo per la rossa. Siamo rammariati per questa, la prossima c'è il tempo per pensarci. Ecco, analizzando l'episodio che poi è portato all'Arezzo, insomma, il continuo del gioco, l'espulsione di Pattarello, il giocatore come ha raggiunto un po' gli espoiatori all'espulsione? No, non lo nemmeno guardate, non lo so. Sì, l'episodio di cave, però già dopo il nostro vantaggio avevamo avuto dei possessi palla sbagliati, poi ovviamente l'episodio condiziona un po' la partita, però secondo me ci eravamo difesi abbastanza bene, e loro hanno trovato questo gol, noi alla fine eravamo veramente stanchi e quindi era dura pareggiare, però io sono positivo, guardo il bicchiere mezzo pieno e sono fiducioso per il futuro. Comunque è un punto che mantiene la rete in testa della classifica, a me provvisionalmente, fin quando Pianese non recupererà la gara mercoledì prossimo e settimana prossima c'è già la nuova Traiana. Ti chiedo cosa ti aspetti da questa settimana che poi insomma punterà a quella sfida lì, considerando il fatto insomma di come è nato questo paletino. Buonasera. Mi aspetto la settimana che facciamo sempre, perché ci alleniamo sempre forte, ci alleniamo al massimo e abbiamo dimostrato che dopo le batoste, a parte questa non è la batosta, però sappiamo reagire e quindi sono sicuro che lo faremo anche domenica prossima. La torna prima volta che aveva il sui piedi in dieci al comunale, è una partita, non c'era Polvani, questo oggi assente, è stato riposto l'Azzarini al tuo fianco, una coppia centrale inedita, ma come vi trovate insieme? No, ci troviamo bene, L'Alza, Polva, Mattia, sono tutti giocatori forti, quindi chiunque giochi, insomma, ci troviamo bene tutti. Siamo una squadra, come ho sempre detto, di 20 giocatori allo stesso livello, quindi gioca uno, gioca l'altro, fa poca differenza.